One, two, three, four! Il KKK sta progettando un attacco. Come proponi di condurre quest'indagine? Sotto copertura. Sono David Duke. Il gran maestro del Ku Klux Klan. Contro il vero iddio. Serve un agente bianco che faccia me quando si incontrano di persona. Io capisco che sei pura razza ariana bianca. Black Lesbian. Al cinema. Grazie.